Cari amici della televisione in diretta di quotidiano.net, bentornati per parlare di calcio della seconda giornata del campionato insieme con Enzo Bucchioni, vice direttore di Quotidiano Nazionale. Buongiorno Enzo. Buongiorno a te e a tutti gli amici ascoltatori. Partiamo dall'editoriale che stamane Enzo Bucchioni ha firmato su Quotidiano Nazionale, La Nazione, il resto del Carlino, il giorno. Ancelotti non ha colpe, ora dategli tempo. Che cosa significa Enzo in calcio alla crisi del Milan? Che tu ritieni ovviamente che le principali responsabilità siano da accollare alla società, al mercato che il Milan ha condotto quest'anno? Ma sì, assolutamente. Il povero Ancelotti lo stiamo mettendo in croce troppo presto. Dopo due giornate di campionato ha in mano una squadra completamente rivoluzionata, una squadra anomala, piena di fantasisti, di centrocampisti offensivi, con difensori anzianissimi come Maldini e alcuni forse non da Milan. Diamogli tempo per assemblare questa squadra. Ieri diceva il poveretto che ha lavorato solo quattro giorni in due mesi con tutto l'organico al completo. Quindi non si può assemblare una squadra in così poco tempo, neanche un mago, neanche fosse stato, che ne so, il mitico Herrera, ma nessun allenatore al mondo. Siamo seri e sinceri. Diamogli tempo per lavorare, un mese, un mese e mezzo, poi si era valutato il lavoro di Ancelotti anche se è difficilissimo mettere insieme una squadra di questo tipo. Io spero che ci riesca, perché sono molto curioso, perché se riuscirà a far giocare assieme Pato, Kakà e Ronaldinho, questi tre brasiliani potrebbero veramente cambiare il volto del Milan, ma anche il volto del campionato, finalmente ci divertiremo. Ecco Enzo, tu hai seguito ovviamente con grande attenzione la partita di Marassi del Milan. Secondo te, in questo momento, oltre all'aspetto che hai giustamente evidenziato, peraltro lo stesso Galliani se l'è presa con il calendario internazionale, è il fatto che i numerosi nazionali del Milan siano costretti a questi viaggi, a queste trasferte anche intercontinentali. Ma qual è in questo momento il primo problema che Ancelotti deve risolvere? È una questione psicologica, è una questione di assetto tattico, è una questione di condizione fisica? Ma la condizione fisica è disastrosa, si è vista anche ieri, il Genoa correva, il Milan faticava a camminare, ma questo fa parte del discorso che abbiamo fatto prima, viaggi aerei, pochissimi allenamenti. Questa è una cosa che, secondo me, andrà risolta in pochi giorni con il Milan Lab, andranno in regime questi giocatori fra poco. Il problema tattico, ne abbiamo parlato poco fa, ci sono tanti fantasisti e pochi incontristi, ma il problema vero in questo momento, secondo me, è legato a Pirlo. Un giocatore estremamente importante negli ultimi anni, decisivo anche per la Nazionale e i Mondiali del 2006, che sta attraversando un momento di involuzione e un momento fisico molto disastroso, peggio di tutti gli altri, tant'è che ha perso il posto in Nazionale, dove il playmaker l'ha fatto De Rossi, lui è stato costretto a giocare in un altro ruolo e poi è sostituito. E in questo momento, con una squadra così in cattive condizioni, se io fossi Ancelotti metterei due incontristi in mezzo al campo, giocherei con due incontristi soltanto e metterei fuori Pirlo, che è diventato un problema, in attesa del recupero fisico. Ultima domanda, Ancelotti ha iniziato l'ottava stagione consecutiva sulla panchina del Milan, un record assoluto nell'arco della ormai gestione ultra ventennale di Silvio Berlusconi. A tuo avviso questa comunque vada a finire? È l'ultima stagione di Ancelotti sulla panchina rossonera? Ma dipenderà molto dai risultati, gli allenatori sono sempre legati ai risultati. Se posso fare un discorso diverso da quello fatto prima, io ho la fiducia di Ancelotti ora, in questo momento serve un errore mandarlo via, però se io fossi stato un dirigente del Milan avrei risolto il contratto prima del campionato, mi sembrava già un rapporto consulto l'anno scorso, avere voluto prolungare una situazione non è possibile tagliarla adesso, ma sappiamo che il Milan si era rivolto a Lippi, ha parlato con Donadoni, tutti gli allenatori che però non sono aziendalisti come Ancelotti. Ancelotti, poveretto, accetta tutto, accetta un mercato che non fa lui, gli altri gli hanno detto se veniamo vogliamo tizio, ok, ci rifate il Milan, allora è meglio tenersi Ancelotti. Grazie a Enzo Bucchioni, vice direttore di QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il resto del carlino del giorno e grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci sulla televisione in diretta di quotidiano.net. A presto.